Questo cantiere è la vostra occasione d'oro per uscire dall'inedia e dalla frustrazione in cui vi siete cacciati. Qui si lavora sodo e non è consentito lamentarsi. Qui ritroverete gli strumenti e le sinergie. Qui la vostra fantasia può tornare a rendervi geniali ed unici. Recuperate quindi il tempo perduto e tuffatevi in un futuro più degno e soddisfacente per ciascuno di voi. Buon lavoro, fratelli, e che la musica vi accompagni sempre.